Ciao ragazzi e benvenuti in questo speciale della Computer Museo. Questo è il secondo episodio dove andremo a parlare del PhotoPlay Service Box. Ma prima un breve recap. Cos'è il PhotoPlay Service Box? Non è nient'altro che un dispositivo che permetteva ai tempi di creare copie originali riguardanti il software, il sistema operativo PhotoPlay, che è basato sotto PTS-DOS e che praticamente permetteva di avviare molteplici videogiochi touchscreen che ai tempi nelle salagiochi andavano a ruba. Questo è il dispositivo che veniva fornito direttamente dalla PhotoPlay e che appunto permetteva di andare ad installare su un hard disk qualsiasi il sistema operativo in maniera del tutto automatica. Di qui avevamo un lettore floppy dove andare a inserire il sistema operativo del Service Box sulla destra avevamo un lettore CD, non DVD-ROM, ma CD dove andavamo a copiare i dati da CD ad hard disk ma non solo, questo dispositivo grazie anche al display che abbiamo qua davanti aveva in verità molteplici funzioni che andremo a scoprire poi nel terzo episodio dove andremo a fare il collaudo finale, andremo a scoprire se questo dispositivo funziona oppure no perché questo non lo sappiamo, questo dispositivo sappiamo che è spento da 23 anni quindi nella terza ed ultima puntata andremo ad accenderlo a vedere se succede qualcosa però appunto oggi andremo a fare un turn down e andremo a vedere all'interno com'era basato questo sistema tutto questo subito dopo la sigla e quindi benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo oggi appunto andremo ad aprire questo Service Box innanzitutto dobbiamo mettere in sicurezza tutte le cose come ad esempio il floppy disk e altre cose delicate che potremmo trovarci all'interno questo perché molto semplicemente questo è un dispositivo unico ci sono credo veramente pochissime copie ancora funzionanti e soprattutto ancora in giro anche perché tra parentesi questo sistema in verità dovrebbero averlo solo i distributori i distributori dopo che un arcade non andava più nel tempo veniva buttato al macero tutto quindi chissà quanti di questi dispositivi sono andati via in questo esatto modo allora innanzitutto prima di andare ad aprire vi faccio appunto vedere il dispositivo come era impostato abbiamo l'etichetta Service Box stampata con la classica stampante a getto d'inchiostro il lettore floppy, il lettore cd, il case il vano per gli hard disk una comoda tra virgolette maniglia per tenere il nostro dispositivo anche senza la valigetta originale dall'altra parte abbiamo come potete vedere diverse cose interessanti tra cui l'alimentazione, l'interruttore, due porte LPT, una per la dangle e una per la stampante ad aghi o comunque stampante sotto LPT port ora il nostro dispositivo è qui, è revisionato 2002 e andiamo a scoprire insieme a voi cosa ci troviamo all'interno perché adesso quello che andremo a fare è aprire completamente questo dispositivo e dopo 23 anni, visto che è 2002, siamo nel 2024 barra 2025 quindi sì, da un bel po' di anni andremo a vedere cosa c'è dentro andiamo ad aprire il nostro dispositivo e andiamo a vedere un secondo come è composto ovviamente questo è un taglia ai cuci di montaggio ho staccato due connettori che potevano dare non pochi problemi uno al lettore floppy che si rischiava di rompere completamente la pinnatura e il secondo all'LCD che abbiamo qui che praticamente era collegato tramite una porta seriale quindi probabilmente questo dispositivo tramite una porta seriale comunica e praticamente programma questo display 16x2 per appunto dare delle informazioni a livello di LCD però a parte queste due cose è molto interessante quello che ci stiamo trovando dentro adesso vi faccio uno zoom sulla scheda madre così andiamo un secondo a vedere insieme a voi come era composta e la cosa interessante è che come tutti i photoplay questo dispositivo è basato sotto una scheda madre una scheda madre che è una SIS allora il processore... anzi no, neanche il processore la... che poi anche qui c'è una scheda grafica che la SIS in teoria dovrebbe essere una scheda grafica ma non c'è il connettore VGA in questa scheda madre cioè non è predisposta per avere la VGA probabilmente no, non è proprio predisposta non ci sono connettori sotto VGA la cosa però che è interessante è che il connettore floppy ha la sua porta il lettore DVD, scusate il lettore CD e l'hard disk invece sono tutti sotto lo stesso canale quindi uno master è probabilmente il secondo slave questo è molto interessante poi abbiamo una RAM che è da 4 MB probabilmente non sto qua a staccarla più che altro perché non mi fido molto perché sono i vecchi banchi RAM quelli che diciamo sono famosi per rompersi facilmente quindi lo lascio inserito e la cosa interessante a parte che ha il BIOS classico, fan world e tutto ma la cosa interessante è che secondo me questo dispositivo non cambia molto dai computer della fan world perché secondo me questo è basato infatti su un Intel DX4 tradotto una sorta di 486 quindi a tutti gli effetti questo dispositivo è un computer con i suoi banchi RAM base quindi 640K più l'estensione di memoria 3 PCI Express e 3 ISA ed è veramente molto interessante come cosa è una cosa autocostruita perché si vede che comunque ci hanno messo l'impegno per autocostruirla quindi hanno inserito proprio tutto al millimetro e c'è un alimentatore anche adesso questa cosa mi diventa più difficile da mostrarvi però un alimentatore proprio brandizzato con la classica pinnatura 12 GND 5 GND che si usava nei vecchi computer proprio stiamo parlando di anni 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 fa e altro non vedo niente in speciale i due lettori sono il CD Mitsubishi il floppy disk Mitsubishi cioè formattato con la funzione 2 MB e adesso io prenderei un secondo la telecamera prima di passare effettivamente alla chiusura del filmato andiamo a vedere un secondo più nello specifico da vicino come è predisposta infatti come vi stavo dicendo prima la nostra scheda madre come potete vedere ha questi due banchi SIS 85C497 e l'85496 che secondo me questo uno è per la gestione delle unità che abbiamo qui quindi floppy e tutto e l'altra invece la scheda video non lo so perché la SIS sapevo che di base era la classica scheda video però non lo so sinceramente poi altro non mi pare di vedere niente in speciale c'è la solita batteria del BIOS qua nascosta che però non è che faccia più di tanto altro e niente non mi pare di vedere più niente quindi direi che a parte questa breve recensione chiamiamola così che più che breve non è che è stata perché comunque ci è voluto un pochettino per aprire tutto andiamo all'ultima parte cioè quella del display e poi chiudiamo l'episodio e l'elettronica invece del nostro LCD è veramente curiosa perché l'elettronica si divide in due punti il primo è che appunto l'elettronica dell'LCD avviene la comunicazione tramite sembrerebbe una porta RS232 quindi che manda informazioni a questo display c'è una sorta di ah sì c'è un Atmel qua c'è una non so se si può togliere non voglio rischiare di rompere qualcosa vediamo se riesco no meglio non sforzarlo allora comunque c'è qua sotto un Atmel un microprocessore probabilmente che decodifica le informazioni che arrivano tramite la porta RS232 mi sembra anche qua di vedere un altro regolatore no questo mi sembra più un regolatore e poi tutte le informazioni vengono mandate a questo display tramite questo cavo quindi una volta che è attaccato a questo cavo qui abbiamo il classico 16x2 di caratteri con la retroilluminazione che vedo che è alimentata direttamente da qua perché non è ancora la retroilluminazione a led ma stiamo parlando ancora di quella con la classica barretta elettroilluminescente e qui abbiamo i diversi gestori di segnale del nostro sistema che poi non so sinceramente se siano uno di questi tre che convertono le informazioni dell'RS232 oppure questo Atmel che appunto c'è qui sotto in basso però è molto interessante l'elettronica che è stata inserita all'interno di questo dispositivo quindi non ci resta nient'altro che darvi appuntamento anzi darci appuntamento all'ultimo episodio all'ultima puntata dove andremo ad accendere il nostro dispositivo e se funziona proveremo insieme a voi a clonare un disco quindi faremo tutto il procedimento che in origine era fatto per questi dispositivi e andremo a clonare un artista insieme a voi soprattutto andremo anche a provare a stampare statistiche a provare veramente di tutto ma per il resto da Computer Plus è tutto grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi